I continui racconti riguardanti le numerose situazioni di pericolo nelle quali è purtroppo ormai facile imbattersi all'interno della città di Milano non sono cessati neanche negli ultimi giorni. Di recente, infatti, è diventato virale il video di una ragazza che, nonostante si trovasse in una zona centrale come quella di San Babila, è stata in qualche modo salvata da un tassista a causa di alcuni ragazzi che avrebbero iniziato a inseguirla e a urlare nella sua direzione. Sono sempre più frequenti anche le storie riportate dagli stessi tassisti che, lavorando soprattutto di notte, si stanno imbattendo in questo tipo di pericoli, aiutando in più di un'occasione persone in difficoltà. Altro video virale su TikTok in queste ore di una ragazza evidenziando alcuni metodi che potrebbero aiutare a difendersi, ma l'unica cosa che potrebbe funzionare è se qualcuno si mettesse in testa che questa città sta diventando veramente critica da vivere, soprattutto se sei donna. Continua poi nel suo sfogo. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di lasciare un like e un commento con i tuoi pensieri. Il tuo feedback è fondamentale per noi. Se non l'hai ancora fatto, considera di iscriverti al nostro canale e attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornato sui nostri futuri contenuti.